Caviale e pollicine? Da! Ostica e champagne? Be sure! Do you want any eggs, Benedict? Yes, I do! Se vogliamo organizzare un banchetto in stile imperiale, possiamo riscoprire le origini di piatti unici e inconfondibili. Proviamo ad amalgamare gli ingredienti con una food writer come me e ripercorriamo le prime esperienze della salsa olandese. La terra boscosa, come il suo topolimo Hotland, ci suggerisce. La salsa olandese è l'ingrediente chiave delle uova, la Benedict, ed è una delle cinque salse madri. Vi ricordo quali sono le altre famose salse madri? La salsa vellutata, la besciamella, la spagnola o salsa bruna e la ben nota salsa di pomodoro. Un prezioso consiglio che posso darvi è di consultare il volume La scienza in cucina e l'arte di mangiare bene di Pellegrino Artusi. È una preziosa eredità anche per noi food writer. Un abbraccio gustoso dalla vostra Rossella.